Ciao a tutti e benvenuti a questo sesto episodio con l'apparecchio per i denti. Questa volta il medico ha finito l'installazione dell'apparecchio, nel senso che ora tutti i denti sono stati inseriti nell'apparecchio. I due canini che precedentemente non facevano parte dell'apparecchio inferiore, ora come vedete hanno i loro gancetti e sono tutti collegati. Quindi una visita importante. Perché? Perché quando vengono inseriti tutti i denti, non si deve pensare che lo spostamento verrà aggiunto solo a questi denti che non facciano parte dell'apparecchio. Ma in realtà si va ad agire su tutti i denti di mitrofi. Nel senso che ogni dente spinge l'altro, quindi avendo inserito questi gancetti, ora l'apparecchio ha fatto pressione proprio su tutta l'arcata dentale inferiore. E questa cosa l'ho notata subito. Sia durante la visita ho sentito parecchio dolore quando venivano inseriti questi gancetti, ma soprattutto dopo la visita ho notato che i molari hanno cominciato a spostarsi. E i molari sono denti importanti, sono denti molto profondi, che quando si spostano portano con sé un po' di dolore. Quindi diciamo che ho fatto una settimana di antidolorifici, in particolare ho usato un normalissimo ibuprofene. Ci sono farmaci più importanti, se avete dolore significativi parlatene con il vostro dentista. Ibuprofene è un farmaco che si può prendere senza prescrizione, in tranquillità, e mi ha permesso di superare questa settimana, devo dire, abbastanza impegnativa. Però voglio anche far notare che dopo questa visita è anche il momento in cui ho visto gli spostamenti più significativi, perché l'apparecchio per i denti al completo veramente agisce adesso anche sui denti posteriori e sta allineando veramente tutta l'arcata. E per quanto mi riguarda ho questa sensazione che il genere di dolore che ho provato con questa installazione completa era un dolore che avevo già sentito in passato, che aveva provocato mal di schiena, mal di testa, eccetera. Proprio dovuto al fatto che i denti non sono dritti. Quindi questo dolore che dovreste sopportare, pensate che è un po' una cosa risolutiva, mentre in passato magari vi accadeva di avere appunto casualmente di tanto in tanto qualche male inspiegabile, ecco, dopo aver portato l'apparecchio e dopo aver raddrizzato i denti, e non parlo solo dei denti davanti, che magari sono una questione più estetica, ma dei denti posteriori, ecco, dopo questa procedura, se avviene correttamente, magari potreste risolvere anche qualche problemino che avevate di postura, di mal di schiena, eccetera. Insomma, ne vale la pena, ne vale veramente la pena. Sì, vi voglio parlare di una cosa che può succedere quando si indossa l'apparecchio per i denti, è che uno dei gancini potrebbe scollarsi e cadere, per esempio, mentre stiamo pulendo i denti, oppure magari mentre stiamo masticando qualcosa. Ecco, cosa fare in quel caso? Beh, sicuramente sputare il gancino, perché è di ferro, non lo vogliamo assolutamente ingerire, dopodiché, a posto così, puliamo i denti, finiamo di pulirli, e vediamo presente che un gancio si sarà staccato, ma come diciamo, il sistema apparecchio è un sistema fatto di tanti ganci, e perdere un gancio non è un grosso problema. Parlate con il vostro dentista, fatelo presente, e alla visita successiva profederà a rincollare il gancio che si è staccato. Questo ve lo ricordo il sistema Fast Brace, è un sistema americano prevettato, consigliato anche per i casi più gravi, perché ci permette di risolvere casi di malocclusione relativamente complicati, anche senza dover ricorrere a estrazioni, si fa per esempio lo skinning dei denti, insomma vengono limati un attimino per fare spazio degli altri denti, ed è anche indicato per l'età adulta, perché è più rapido del sistema tradizionale, e quindi quasi nella metà del tempo si permette di risolvere il nostro problema dentale. Grazie, questo video si conclude qui, lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima con l'apparecchio per i denti Fast Braces.